Il Palacarrara sta per tornare da Serie A. Dopo 14 anni di attesa, domenica sul parquet dell'impianto di Via Fermi si tornerà a giocare una partita del massimo campionato di basket. Ospite della Giorgio Tesi Group sarà la Sidiga Savellino, che ha steccato la partenza perdendo in casa, sorpresa da Pesaro. Gli Irpini, che hanno ambizioni da playoff, non potranno utilizzare il pivot Ivanov, infortunato. In casa Biancorossa non ci dovrebbero essere problemi, visto che anche Wanamaker, per lui piccolo acciacco nell'allenamento di mercoledì sera, sulla via del completo recupero. Al di là di tutto però bel debutto, Cantù, piazza storica, e poi devo dire che avete anche meritato, non siete usciti a testa bassa. No, quello sicuramente, sapevamo che era una partita molto difficile, che Cantù era un'ottima squadra, in un campo secondo me forse il più caldo d'Italia, uno dei più caldi comunque. Volevamo vedere, soprattutto come diceva Paolo, che squadra eravamo, come eravamo, si è stati bravissimi, ma alla fine non mollare, perché lì si rischia anche di fare un figuraccio dopo. Siamo stati in partita fino al terzo quarto, dopo che abbiamo commesso un po' troppi errori, loro ci hanno punito subito, e lì dopo rilasciare un gap di 20 punti, 15 punti, a Cantù comincia a essere difficile. Domenica, seconda di campionato, ma al di là di tutto è la prima qui in casa, il debutto stagionale al Palacarrara. Aspetteremo Vellino, dove viene da una scofitta interna con Pesaro, dove nessuno si aspettava, e verrà sicuramente ancora più col coltello fra i denti per vincere la partita, ma anche noi l'aspetteremo. Cos'è che c'è da prendere di buono da Cantù e soprattutto cos'è che vi ha insegnato, cioè gli errori che non andranno ripetuti domenica? Dovremmo guardare più i dettagli, soprattutto la fase difensiva che abbiamo bucato qualche volta. Dovremmo anche stare attenti a mantenere un certo livello di partita, non, come ha detto Paolo, andare a avere troppi alti e bassi durante una partita. Ci può stare, siamo una squadra nuova, prima di campionato, prendiamo tutta la lezione che ci serve per imparare la partita dopo. Intanto fino a sabato proseguirà la campagna abbonamenti con le tessere, che al momento sono vicine a quota mille, buona la prevendita dei biglietti per la gara, con le previsioni che parlano di una presenza al Palacarrara di oltre 3.000 spettatori.